ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata oggi vorrei commentare la comparativa realizzata dalle mensile due ruote il numero è di agosto comparativa che mette in comparazione la ktm 890 adventure r ovvero quella destinata al fuoristrada la triumph tiger 900 rally pro anche quella che è dedicata proprio al fuoristrada dopodiché c'è la yamaka tenere 700 rally edition che c'ha dei bellissimi colori c'ha il paramotore in alluminio le frecce insomma cambiate ma fondamentalmente la moto è uguale alla mia a parte che è più bella come colorazioni io avrei preso quella lì se ci fosse stata però all'epoca quando la compra io non non si poteva acquistare la comparativa è realizzata da christian lancellotti che sarebbe il direttore di due ruote con il quale insomma io ho avuto una discussione al allo yamaka challenge dove abbiamo dove abbiamo dove abbiamo partecipato c'era anche botturi e c'era anche christian lancellotti che ha fatto insomma il servizio di servizio scopa cioè praticamente ha rialzato tantissime persone per gli ha permesso proprio di arrivare fino alla fine della competizione cosa fondamentale e hanno realizzato questi questa comparativa allora innanzitutto il prezzo ktm 890 adventure r 14000 890 quindi di listino siamo a 15 mila euro triunfetiger 900 rally pro 16 mila 200 euro e la yamaka tenere rally edition 11 mila 800 euro quindi insomma arrotondiamo a 12 mila quindi 12 mila per la la yamaka ktm 15 mila triunfet siamo a 16 e 2 allora io fondamentalmente sono d'accordo con quanto dicono con quanto detto appunto dai dai tester dico subito e anzi a corroborare quel quanto ho detto in questi dieci anni a quanto o a corroborare le indicazioni che io ho dato alle case costruttrici nell'inseguire insomma questo questo tipo di moto moto destinate al fuoristrada ecco finalmente ci sono delle persone che fanno una comparativa fatto bene e danno delle indicazioni questa non è la comparativa che io una delle comparative che io ho criticato in passato un po a tutti i giornali che portano avanti la comparativa diamo il voto il voto di cuore il voto del neofita noi il voto del neofita non ci interessa assolutamente quello che ci interessa è il parere di persone preparate persone specializzate così come sono il direttore di due ruote e cristian lancellotti e simone zaffaroni allora io l'unica cosa sulla quale non sono d'accordo a proposito di questa comparativa è questo questo punto cioè dove dice modi diversi di stare in sella quindi da cui si vincono le personalità delle tre moto max e enduro significa capacità di affrontare una grande varietà di situazioni però non chiedete alla tenere di accompagnarvi a capo nord non nasce per questo io credo non sono d'accordo con questo credo che la yamaka tenere sia una moto che è nata proprio per fare le lunghe distanze ovvero raggiungere il marocco raggiungere la tunisia credo che ci abbia e sia stata progettata proprio per per quello poi se vogliamo dire è che la triumph tiger e ktm non so perché non l'ho mai provato questo nuovo capo questo ktm in particolare vogliamo dire che sono molto più comode va bene ci sta però io posso dirvi che questa mattina l'ho provata in autostrada a velocità sostenuta la yamaka tenere e posso dirvi che ha una protezione dall'aria assolutamente efficace che va via liscia e che può affrontare tranquillamente anche anche per percorrenze molto molto importanti ma al di là di questo io poi sono d'accordo con quanto con quanto detto è stato utilizzato tra l'altro nella comparativa cosa fondamentale lo stesso pneumatico che sono i pirelli scorpion rally str che sono tra l'altro i pneumatici che sto utilizzando io in questo momento che sono pneumatici molto validi su strada e molto validi in fuoristrada se fuoristrada è asciutto se fuoristrada è bagnato scordatevi il scordatevi il fuoristrada ora io vorrei appunto andare al punto in cui si parla proprio delle si parla delle sospensioni che è il punto credo focale che è il punto più importante per che che dà insomma le indiche la indicazione che fa la differenza per quando si percorrono strade in fuoristrada allora la yamaka si affida a kayabala tryon fa show a ktm vp tra l'altro credo che facciano parte ktm vp del solito gruppo comunque la proprietà è la stessa allora andando un po a quelle che sono le conclusioni ecco dice qua in offroad la yamaka è perfetta finché il ritmo non è serrato ma quando la velocità aumenta la 8 e 90 adventure r è più piantata a terra rispetto alla giapponese da più sicurezza diciamo che le sospensioni della yamaka è perfetta per l'amatore e non a caso uno degli interventi principali che viene fatto da chi partecipa al challenge yamaka è proprio la messa a punto delle sospensioni mentre la ktm già di serie più rigorosa anche quando si impatta contro ostacoli importanti allora quello che dicono è assolutamente vero ovvero la yamaka charlie kayabala anteriori che sono sospensioni che sono forcelle di livello medio e il mono posteriore che credo che sia insomma di livello addirittura basso ora cosa vuol dire il livello basso medio vuol dire che all'inizio vanno bene dopodiché dopo qualche botta l'olio che c'è dentro diventa schiuma e non lavorano più infatti andava a pacco fisso perché non avevo non avevo implementato gli le sospensioni dopodiché ci ho messo hollins dietro e andriani che utilizzano gli steli di di nascita e kayabala insomma della della yamaka e sicuramente in fuoristrada la moto cambia da così a così perché rimane molto più compatta ma il fondamentalmente la moto migliora anche su strada cioè anche su strada è molto più rigida è molto più rigorosa è molto più che poi è rigida nel senso si possono molto più rigorosa perché poi per quanto riguarda la rigidità naturalmente si può lavorare sulla rigidità si può lavorare sulla sul ritorno anche no per cui sicuramente sono ammortizzatori superiori quelli che che però è una modifica che costa 2000 euro ora io queste questo discorso che vi faccio qua ecco è riportato poi nella sintesi che la reggiamo nel mondo dell'endurone la yamaka è ciò che più si avvicina al concetto di enduro nella sua accezione più fuoristradistica nessuna come lei l'anello di congiunzione tra l'enduro specialistico e la voglia di viasione disimpegnata vista l'oggettiva facilità del mezzo rispetto alle altre due a qualche limite in più sull'asfalto non per l'efficacia nelle strade tutte curve divertentissima ma per le minore attitudini ai lunghi trasferimenti magari in coppia considerando la protezione della sella più risicate è verissimo quello che dicono queste sono veramente le comparative le comparative fatte bene ora però io voglio partire proprio da quello che hanno detto per arrivare al punto ovvero esiste e io lo dico da anni esiste un mercato e lo stiamo vedendo lo dicono i numeri di questa yamaka tenere che badate bene i numeri non sono ancora chiari perché queste yamaka tenere non arrivano nei concessionari perché ci sono per via del covid per via che le persone non sono al lavoro per mille motivi queste moto non vengono vendute perché non ci sono disponibili per cui non abbiamo ancora una una visione completa di quelli che saranno i numeri effettivi della yamaka tenere ma io posso già dirvi che saranno molto molto grandi questi numeri perché esiste una voglia molto latente questo è latente perché ancora le case costruttrici non se ne sono rese conto ma io credo che invece le i giornalisti se ne stanno rendendo conto e questa ne è la prova e devo dire che due ruote contrariamente al fatto che io vengo accusato di prendermela in particolare modo con due ruote invece io devo dire che due ruote probabilmente anzi sicuramente è una delle riviste che ha capito che questo è fondamentalmente un settore che non è una nicchia ma è un settore molto ampio ovvero le persone sognano di andare in paesi come la tunisia al marocco sognano di arrivare un giorno a realizzare un viaggio come quello e queste moto per cui ricercano moto che hanno la ruota da 21 all'anteriore moto che siano performanti nel fuoristrada io sono certo certissimo che esiste un un mercato che non è una nicchia ma è un mercato in espansione è un mercato di una potenza che in pochi se ne rendono conto anzi giornalisti tranne e voglio voglio fare proprio ecco un distinguo con con due ruote posso dirvi che io ho parlato con tanti giornalisti di di mensili prestigiosi che assolutamente mi hanno sempre detto che si trattava di nicchie non è assolutamente così infatti questa tiger esce con un modello proprio per il fuoristrada la ktm con un modello dedicato al fuoristrada la yamaka crea una moto fondamentalmente per il fuoristrada ora qui se ne sono resi conto giornalisti persone specializzate persone preparate non io che sono un amante sì che ho sempre avuto moto enduro che vengo dall'enduro come appassionato dall'enduro nel senso che ho sempre avuto moto enduro non che ho corso nell'enduro non ho mai fatto competizioni però è una vita che io guido dal 50 poi 125 e poi sempre più in là ktm 990 tenere ho sempre guidato moto moto di che facevano parte insomma di questo gruppo delle delle enduro cioè moto che sono molto performanti anche in anche in fuoristrada e arrivo a bomba su quello che è stato realizzato sulla nuova tuareg allora io vi ho detto che da un punto di vista estetico è una moto sicuramente apprezzabile è una moto bella e di questo sono molto felice però questa tuareg non ha non ha coraggio cioè chi l'ha realizzata non ha non è stato non ha fatto un lancio con con coraggio perché è da quello che si evince da quello che dicono si poteva fare tranquillamente una moto che io credo che la sua re che da quello che ho letto monta kajabala anche anche la sua re che con questi a questo punto con questi con questi ritrovati con queste mappature che su moto come questa assolutamente non hanno un senso io capirei capi posso capire anche se poi io le toglierei che questi queste mappature possono essere applicate possono essere utilizzate su moto da 150 160 cavalli come questa ducati che magari quando piove possono essere un ausilio valido al di là del fatto che io con una moto come quella sul bagnato andrei semplicemente piano e ma comunque mettiamo che vi serva una mappatura rain che tagli la potenza che aumenti insomma la sensibilità di questi sensori no della per quanto riguarda la sicurezza ma su moto che hanno 80 cavalli io assolutamente non ne vedo non ne vedo l'utilizzo allora che cosa abbiamo imparato da questa comparativa che gli ammortizzatori fanno la differenza in che fanno la differenza fuori strada allora io dico se questo tuareg c'è più o meno la stessa ciclistica anche come peso al di là che c'è un altro motore questo è naturale ma la stessa fondamentalmente o una ciclistica molto simile a quello che è la tenere la trenere yamaka allora la domanda che io mi faccio e che faccio a tutti voi è perché l'aprilia non sia andata verso una soluzione di ammortizzatori più prestigiosi io parlo di hollins davanti e dietro oppure andreoli andreani anteriore e hollins dietro oppure tutto quello che volete voi ma di livello alto che avrebbe dato che avrebbe creato una moto con performance riconosciute da giornalisti che sanno quello che fanno cioè avremmo avuto una moto un'aprilia tuareg che in fuori strada spaccava ecco e una magari una pubblicità che diceva signori noi delle mappature ce ne infischiamo perché non ne abbiamo bisogno ma abbiamo implementato gli ammortizzatori vi abbiamo dato il massimo ecco questa è la domanda perché questo non è stato fatto perché questo continua a non essere fatto è una domanda che faccio a aprilia quindi gruppo viaggio è una domanda che faccio a tutti quelli che ora si stanno si stanno affacciando al mondo del dell'enduro fuoristradistico perché a questo punto non sono solo io che non conto nulla assolutamente né come esperto né come neanche poco come appassionato ma a questo punto ci sono delle persone che sanno quello che dicono sanno quello che fanno e lo scrivano e l'hanno scritto e bisogna prenderne atto sono veramente le prove di cui c'è bisogno io auspico e spero che si continui su questa strada e credo che la strada intrapresa sia quella corretta per fare giornalismo giornalismo di livello e in italia ce n'è un bisogno esagerato ciao a tutti spero che questo video vi sia piaciuto e come sempre se vi è piaciuto questo video iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima puntata ciao a tutti